Il PD si prepara alla grande manifestazione di fine settembre per rilanciare un'opposizione forte e decisa ad un governo, scandisce Paolo Gentiloni dal palco della Festa dell'Unità, che rischia di compromettere gli sforzi realizzati anche dai nostri esecutivi per uscire dalla crisi. Questo governo ha un problema drammatico di reputazione. Mi auguro che alcuni ministri, penso al Ministro dell'Economia, riescano a correggerla, questo difetto di reputazione.